Nella vita, si sa, la convivenza è una sfida ardua persino tra consanguinei e coppie, ma quando a condividere questioni e spazi comuni sono perfetti sconosciuti, i problemi spesso si amplificano. Accade nei condomini, dove le questioni da risolvere sono legate a prevenzione e sicurezza di spazi e attrezzature comuni. Su queste tematiche è stato incentrato il convegno organizzato da ANACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condomini e Immobili e ARCO, Associazione dei Consumatori, nella sala figlia di Iorio della provincia di Pescara. Tra le questioni affrontate anche quella idrica, come spiega Carla Rascente, segretaria regionale di ARCO. L'iniziativa di oggi per i consumatori ha il fine di poter garantire per chiunque consuma l'acqua che sia un bene potabile, che sia sicuro e per far questo ci vogliono due elementi, da una parte il distributore dell'acqua fino a casa e dalla seconda parte il controllo soprattutto per quanto riguarda i condomini che hanno questi grandi serbatoi, quindi le verifiche opportune che vanno fatte affinché l'utilizzatore finale, il consumatore, possa accedere all'acqua dei rubinetti in maniera completamente sicura. Soprattutto in quest'estate di caldo torrido si parlava tanto di autobotti, autocisterne, tenendo presente che poi in molti casi non è possibile avere questo tipo di installazione. Certo, le installazioni di autocisterne intanto devono essere controllate e garantite perché noi sappiamo bene che nel momento in cui l'acqua viene raccolta, ACA è responsabile fino alla distribuzione ma poi effettivamente sono i proprietari dei serbatori e delle cisterne a dover garantire la qualità dell'acqua. Non sono sicura che questo possa essere un futuro auspicabile per tutti, io spero che si vada a monte del problema, perché l'acqua noi l'abbiamo, va gestita meglio, non ci devono essere perdite e i cambiamenti che dicevamo prima devono essere proprio finalizzati a garantire che tutta l'acqua che viene dal nostro territorio, che è un'acqua buonissima e purissima, possa arrivare al cittadino finale in qualsiasi momento, non solamente in inverno ma deve essere garantita a 12 mesi all'anno. Qualche consiglio utile per vivere bene in un condominio? Sicuramente molto dipende dal nostro amministratore. Avere un amministratore serio che si preoccupi anche della salute dei propri inquilini è fondamentale, quindi rispettare le regole e le leggi che ci sono e anche dal punto di vista dei condomini di capire che quando l'amministratore chiede uno sforzo, anche un piccolo sforzo economico in più, al fine di garantire la sicurezza, questo deve essere fatto proprio a colleggerlo perché è per il suo bene. Oltre a prevenzione e sicurezza, un buon amministratore di condominio ha il compito anche di gestire una convivenza civile tra condomini, come sottolinea Marco Pierotti, vicepresidente nazionale di Anaci. Il problema più importante è la convivenza, chiaramente, è difficile la convivenza nel condominio e questa situazione è notevolmente peggiorata dopo il Covid e quindi rileviamo una serie di problematiche all'interno dei condomini, però cerchiamo di gestirle. Chiaramente un buon amministratore dovrebbe riuscire a gestire i rapporti tra i condomini per far evitare che si creino liti complesse.